Buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico 29 maggio 2024 Bitcoin 67.500 dollari in questo momento quindi ragazzi mentre Bitcoin si trova più o meno sempre allo stesso livello negli ultimi giorni guardiamo insieme Ethereum guardiamo Ethereum come si sta comportando il grafico contro Bitcoin perché siamo in prossimità di un possibile breakout parliamo di Celestia come nuova coin che potrebbe eventualmente comportarsi molto bene nel prossimo bull market un po' come Solano nel 2021 e poi ragazzi vi porto una nuova coin diciamo a bassa capitalizzazione ma con un grande potenziale quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi trovate in descrizione dei referral link da utilizzare per sostenere il canale ragazzi iniziamo a guardare Ethereum contro Bitcoin quindi la chart che paragona la prima è la seconda criptovaluta per market cap e come vediamo diciamo che Ethereum è in un downtrend rispetto a Bitcoin sostanzialmente da agosto 2022 secondo me questo downtrend è molto vicino ad interrompersi con la violazione di questa trend line di resistenza che è stata già testata ben 4 volte 4-5 volte quindi abbiamo resistenza e supporto e questa candela questa candela questa interessante impulso arrivato proprio in prossimità del supporto diciamo la candela positiva arrivata in prossimità della conferma dell'approvazione dell'ETF di Ethereum a seguito di diverse divergenze bullish che avevamo osservato tra questi minimi in prossimità del supporto quindi diciamo che la conferma del cambio di direzione di trend di Ethereum contro Bitcoin sarebbe sicuramente la violazione di questa trend line di resistenza che funge da resistenza praticamente da settembre 2022 questa formazione potrebbe essere un broadening falling wedge un descending broadening wedge scusate quindi una formazione di questo tipo che nella maggior parte dei casi vede un breakout to the upside quindi una violazione della resistenza e una continuazione verso l'alto che favorirebbe ovviamente Ethereum contro Bitcoin Per quello che riguarda invece l'andamento della dominance ci sono secondo me buone notizie per le altcoin in questa fase perché può essere che la dominance con il recente ribasso perché siamo passati dal 56 al 54 53.8 potrebbe aver violato una trend line di invece supporto che diciamo che diciamo manteneva la dominance con questo diciamo fake out questa potrebbe essere effettivamente un breakout di questa trend line di supporto e questo potrebbe essere invece un rising wedge che invece è una formazione bearish che vede la violazione del supporto ed un ritorno all'ingresso del rising wedge quindi diciamo che se venisse confermata magari con un ritest questa violazione potremmo aspettarci un ritorno della dominance più o meno in zona 49% l'ingresso del rising wedge quindi secondo me buone notizie per le altcoin in termini di dominance parliamo ragazzi poi di una altcoin nuova nel senso che è uscita di recente listata su Binance da novembre 2023 sto parlando di Celestia che sicuramente ha cavalcato la narrativa delle blockchain modulari a fine 2023 che sicuramente ha visto un run veramente importante da fine 2023 a primo trimestre 2024 passando da 2 dollari a 20 dollari quindi praticamente un 10 per nell'arco di pochi mesi secondo me Celestia potrebbe essere una di quelle coin che farà molto bene nei prossimi mesi nel bull market 2024-2025 complice una serie di fattori sicuramente il fatto di essere una nuova coin con una community di developer sicuramente molto ben sviluppata se guardiamo la chart vediamo che c'è questa trend line di resistenza che è stata recentemente violata da Celestia con la candela del 27 barra 28 maggio quindi secondo me già la resistenza per Celestia è stata violata e se effettivamente Celestia tornasse al suo precedente oltre ai 20 dollari un target possibile potrebbero essere i 40 dollari all'incirca come estensione dello 0,61 ma penso che Celestia potrebbe arrivare ancora più in alto durante l'eventuale prossimo bull market sempre parlando di Celestia ragazzi questa è parlando del paragone diciamo non tanto di blockchain ma come coin nuove che escono sul mercato questa è la chart che paragona Celestia con Solana quindi il rapporto Celestia-Solana e come vedete dopo aver outperformato Solana-Celestia praticamente siamo tornati al bottom del range quindi plausibilmente in questo momento Celestia per se volesse tornare semplicemente a confermare la precedente performance contro Solana decisamente ci sarebbero interessanti moltiplicatori perché negli ultimi mesi diciamo che Solana ha decisamente outperformato invece l'andamento di Celestia se guardiamo sempre paragonando Celestia con Solana oggi un Celestia vale 11 dollari se arrivassimo alla market cap di Solana oggi ovviamente si tratta di mera speculazione sarebbe un 36 per quindi un Celestia 412 dollari all'incirca cose da notare diciamo di cui prestare attenzione su Celestia è sicuramente l'elemento dell'unlock perché sta per arrivare un token unlock a novembre quindi una diluizione della supply di Celestia che possono o possono o potrebbero anche non essere già inseriti nel prezzo attuale gli unlock e invece interessante notare la diminuzione dei delegati quindi la quantità di delegati negli ultimi mesi quindi praticamente da se non sbaglio da inizio maggio praticamente quindi da le ultime settimane la quantità di delegati di Celestia si sta riducendo questo probabilmente perché non ci sono stati particolari airdrop negli ultimi mesi per quello che riguarda gli stakers di Celestia quindi questo potrebbe essere un'attribuzione al numero dei delegati che sta diminuendo su Celestia quindi fatemi sapere cosa ne pensate in generale sulla chain di Celestia se vi sembra una buona scommessa per il eventuale prossimo bull market ragazzi in ultimo vi porto questo progetto probabilmente che già conoscete si tratta di Banana Gun quindi al di là del nome sicuramente non particolarmente serio il progetto sta mostrando dei numeri in termini di volumi e di fee veramente impressionanti Banana Gun è un trading bot in questo momento disponibile su Telegram ma presto disponibile come web app e anche tramite l'app store quindi è un bot che è in grado di performare automaticamente una serie di attività di trading sulla blockchain principalmente di Ethereum ma se non sbaglio anche di Solana una serie di attività che può fare questo bot Banana Gun auto sniping quindi andare automaticamente a prendere quelli che sono i nuovi token usciti sulla blockchain di Ethereum posizionare limit order, fare del copy trading, fare ovviamente degli swap veloci e sicuri fare anti-rug e fare scam quindi una serie di attività e protezioni che garantisce questo bot che per adesso è disponibile su Telegram quello che è particolarmente interessante siccome è di Banana Gun sono i numeri quindi abbiamo 4 billion di volume da quando Banana Gun il bot è attivo abbiamo avuto il record di volume giornaliero quindi 43 milioni di volumi solo nella giornata di ieri quindi record assoluto abbiamo un per chi fa se non sbaglio staking un ritorno del 37% se volete fare staking dei token Banana 170 mila wallet collegati e fee superiore ai 200k giornalieri quindi sicuramente un bot che fa dei volumi e delle fee che sono secondo me impressionanti anche eventualmente per un listaggio su checks importanti in futuro questo è il grafico del token Banana tra poco vi faccio vedere anche la dashboard che vi consente di fare staking uno staking che non richiede di bloccare i token ma semplicemente detenendo i Banana nel vostro wallet potete ricevere quelle che sono le fee derivanti dal bot il token Banana 97 milioni di market cap un volume di 678 milioni una supply relativamente bassa di 2.4 milioni un prezzo per singolo token di 39 dollari con un all time low praticamente di 6 dollari ed un all time high di 54 dollari quindi questo secondo me è un token che per i fondamentali del progetto che vi sta dietro potrebbe sicuramente dare buone soddisfazioni parliamo ragazzi in ultimo della dashboard di Banana Gun quindi vi dicevo che una volta che collegate il vostro wallet dovete semplicemente siglare riceverete praticamente giornalmente o anche ogni totore i reward sia in Ethereum che in Solana e l'Ethereum eventualmente potete ritirarli nel token Banana quindi ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao